è proprio guabbero, è qua zio, in questo momento più indietro, ok, più indietro, più indietro si è proprio qua, più indietro? si è ancora questo qua, proprio qua qui? aia scusa voglio rivedere un attimo ma stavi andando quanto? 60, 70 mila cioè, siamo in live certa manta di ritorno dal meccanico che abbiamo riscontrato due o tre problemi qua dietro, come può ben notare sono in riserva quindi stavo di evitare pioggia, stavo cercando di andare a casa che cosa stai dicendo? hai tirato fuori una super cazzola ho detto, confondila, così non capisci io ti giuro che volete ridere? sto facendo la storia in cui diciamo che siamo in live guarda aspetta, link, twitch, ok sì, lo so, lo so, lo so, lo so cioè, bro, io scusami io nelle interrogazioni facevo meno super cazzola sì, me l'ha scritto anche cosa vuol dire sta cosa? praticamente nel panico totale dato che si è fermata vicino allo scarico sapevo di essere senza tappo senza frecce senza luce targa così ho iniziato ad arrampicare ma il tappo è? e cos'hai detto tu? no, perché ecco, lo sa, sono stati dal meccanico sono stati un po' di problemi e ho visto qua dietro e comunque sia, stavo cercando di arrivare a casa pioveva e stavo cercando di arrivare a casa il prima possibile ma hai detto anche benzinaio forse ah sì, perché ero in riserva quindi stavo cercando di correre c'è anche comunico al poliziotto che sono in riserva si sa mai che mi faccio un punto sì, ma io ero difetta c'ho due pompa due pompa sì, 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 sì grazie, assicurazione credevo lo vedesse dalla targa aspetti ok, dovrebbe essere lei un attimo prodo a controllo delle cose va bene minkula minkula qua dicevo minkula perfetto stai a vedere che io oggi non mi dovevo fermare stai a vedere che oggi non ci torno e oggi a casa con la moto non ci torno dai, lasciatemi andare non le contesto la velocità che sarebbero 5 punti ha ragione 5 punti sì, non sono più neopatente ha ragione sono 5 punti fate conto niente, mi ha minacciato tutto cioè mi ha avvisato che non sono più neopatente ha ragione però è bello avere a che fare con il poliziotto ok sì, sì, sì possiamo perdere i soldi c'è una c'è un'altra bellissima dove ci hanno fermato a scattano scattano parecchio a tutti mi scusi aspetta, aspetta, quindi basta cioè, fanno notare niente niente sì, sì, sì poi sono felice viva ma la GoPro dove ce l'avevi? quindi, ma te l'ha vista? sì sì? e non ti ha detto niente? beh, puoi filmarlo un pubblico sì, 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 lo so lo so, lo so però so che di solito magari magari lo rompono essendo la coscienza pulita o fanno storie ascolta io ti dico sono d'accordo con te cioè se mi capitasse distinto ti direi proprio cioè mi chiedono di togliere la GoPro io rispondo no ho il diritto di prendervi allo stesso tempo riconosco il fatto che sai di essere ripreso sai che la minima mossa sbagliata succede un casino appunto per cui lo so non dire la mossa sbagliata ma certo lo so ma mi metto nei panni del poliziotto e dico non c'ho sbatti non è giusto però posso minimamente capire il discorso però non è giusto sono completamente d'accordo